Se la Lega in Italia ha ottenuto un successo storico, a livello europeo i partiti euroscettici e populisti non sono riusciti a dare la spallata definitiva al sistema politico che finora ha governato l'Unione Europea. Infatti si profila una maggioranza di centrosinistra che vedrà assieme il Partito Popolare Europeo che dovrebbe avere 180 seggi e il 23% dei voti, i socialdemocratici con 146 seggi e il 19% dei voti, 109 andranno ai liberal democratici con il 14%, 69 ai verdi con il 9%. Un raggruppamento che attualmente conterebbe su 494 seggi e su 751. Se pertanto l'alleanza che porterà la nomina non solo del Presidente del Parlamento Europeo ma anche della Commissione sarà questa, per i populisti sarà dura a portare avanti le politiche di rallentamento dell'integrazione europea, anche perché è vero che Salvini in Italia, Marine Le Pen in Francia e Farage nel Regno Unito hanno ottenuto un esplosso senza precedenti, il nocello duro dell'europeismo a reto con la Merkel e le verdiche hanno fatto da argine alla destra, mentre Macron in Francia, pur avendo meno voti del Front National, manderà a Strasburgo lo stesso numero di parlamentari. In Italia il PD ha retto, così come le altre forze europeiste in altri paesi, pertanto quando a ottobre verrà costituita la prossima Commissione dell'Unione Europea sono gli stessi protagonisti della passata legislatura a dare le carte. Un problema questo perché Salvini e il Movimento 5 Stelle speravano di avere una sponda europea per le politiche economiche nazionali. È anche vero che forse l'Europa ha imparato la lezione che le politiche di austerity, dure pure, non fanno altro che dare argomenti ai parti populisti, così come l'aver abbandonato l'Italia e la Grecia all'emergenza e migrazione. Ma per vedere che strada prenderà dal punto di vista politico l'Unione Europea occorrerà attendere la formazione ufficiale delle intese politiche.